Mi è stato chiesto se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e i bisognosi. Cazzo io non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Il nostro pensiero affettivamente non può non andare là dove c'è sofferenza. Dispirazione, dolore. Mentre noi ci godiamo un bel bicchiere di vino fresco fresco c'è gente che muore di sede. Cazzo io. Mentre noi ci caliamo un maiale sano sano con tutti i pila c'è gente che muore di fame. Cazzo cazzo io io. Cosa si può fare? E soprattutto cosa posso fare io? Una beata minchia. E' ora di finirla. Sta cosa dei bisognosi è una mania. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistema. Tu non mi voti in tuo culo e ti è tutta la famiglia. Qui non serve lavoro. Lavoro. Che se uno sa firmare due segni a vuoto di fame non muore. Qui non servono strade e viadotte. Che a un neminchia nemmai dire. Qui non servono strutture scolastiche e ospedali efficienti. Qui serve un pelo. Qui non servono. Grazie.